ma che roba ah guarda adesso sta andando giù sulle case eh ma lì entra dentro l'acqua dove c'è quelli di il clavelico sono cinque metri si è lì e adesso si appoggia no no fermo qui fermo qui è davvero il giro col mel si che c'era col discesone alla madonna allora qui c'è due possibilità o di qui per sputare sangue un po' no? un po' si sputa sangue non tanto ma si sputa abbiamo fatto quella lì si lo so due o tre volte e poi scende giù nel rivone no non stai possiamo accendere il brick della camolesa e ci congiungiamo e qui facciamo il brick del muntro è un punto più alto si è un punto più alto è un punto più alto che è un punto più alto Grazie a tutti. 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 Io ho fatto questo di qua comunque è uguale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.